cari amici di milleuna avventura torniamo finalmente dopo tanto tempo sul canale vi invito subito se vi piaceranno questi video che faremo qui nel mese di agosto ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e soprattutto commentate sotto ai video perché appunto più commenti ci sono più sono invogliato a fare nuovi video di altro genere o dello genere di cui vi proporrò adesso un esempio perché di cosa parlerò in questo video delle app che ho prodotto per il google play store com'è che si chiama cioè le app per android però quello che vi mostrerò è un'app che ho solo io l'app più rara del mondo che ha diciamo un solo utente che sono io e ve la farò vedere appunto tra poco è un'app abbastanza particolare magari interessa chi si occupa di matematica a livello magari anche liceale le app che ho prodotto nel corso degli anni sono pochissime molto semplici c'era questa conversione di aladino e le perle di saggezza un'avventura testuale che ho scritto tanti anni fa ormai nel 2009 penso e che avevo convertito per android poi avevo realizzato un semplice gioco del 15 che è quel giochetto in cui bisogna mettere i numeri in sequenza da 1 fino a 15 spostandoli con una casellina vuota lo conoscerete sicuramente in questa app c'erano tante altre possibilità infatti si poteva fare non il gioco del 15 ma con tante caselline in più poi ovviamente non poteva mancare il mastermind quel gioco in cui bisogna inserire una sequenza di colori o meglio si fa pensare al proprio cellulare una sequenza di colori il cellulare ci dà delle indicazioni noi dobbiamo piano piano scoprire qual è in questa versione che ho mandato su google play c'è anche la possibilità contraria cioè noi pensiamo una sequenza e obblighiamo il cellulare a indovinarla e di solito è molto più bravo di noi però andiamo a vedere l'app che possiedo solo io che non troverete qui su google play perché vi spiegherò alla fine perché non la trovate non la troverete allora vedete c'è questa bella schermata qui non ci dice probabilmente nulla questa schermata però proviamo per esempio a scrivere qualcosa per esempio 2 più 3 vedete io con sul tablet questa è un'app per android come vi stavo dicendo prima col pennino scritto 2 più 3 e poi vado a cliccare qui sopra e vedete che giustamente vediamo di ingrandire un po così si vede meglio ho ingrandito troppo ecco giustamente 2 più 3 fa 5 e qui direte bella scoperta però questa app è particolare oltre a poter appunto scrivere espressioni col pennino sul tablet queste espressioni vengono interpretate grazie a un computer algebra system cioè un programma che prende dalle espressioni matematiche e in qualche modo le risolve appunto si possono scrivere anche espressioni più complicate per esempio adesso non mi viene in mente nulla di furbo però se scriviamo x più y al quadrato beh la prima cosa che succede è quella che io l'ho scritta a mano e il sistema l'ha tradotta e compreso che c'era proprio un'espressione algebrica elevata al quadrato però noi possiamo anche espandere questa espressione per vedere a cosa corrisponde x più y al quadrato e vedete che ho scritto davanti expand e ora vedete che come sappiamo se abbiamo fatto un minimo di matematica alle scuole medie che x più y al quadrato è uguale x al quadrato più 2 x y più y al quadrato cioè compare il doppio prodotto vedete quindi che in questa app uno può scrivere come avete visto tante altre app che addirittura possono essere utilizzate per fare la foto dell'espressione che vogliamo risolvere e da quella foto ricavano poi il risultato e fanno vedere anche i passaggi ecco in questa app ho messo assieme degli elementi che consentono da una parte di tradurre ciò che è stato scritto in un'espressione comprensibile per il nostro tablet per il nostro cellulare e poi c'è anche la parte che fa il calcolo e ci dà il risultato volendo si può anche partire vedete ho cancellato molto semplicemente si può partire da un'espressione come x al quadrato meno y al quadrato e chiaramente viene riprodotta così com'è però potremmo anche provare a fattorizzarla per esempio mi pare che il comando fosse la funzione fosse factorize qualcosa del genere vediamo se funziona ecco vedete non ha funzionato ma perché probabilmente è questo ice che è di troppo quindi lo cancelliamo ed ecco che l'espressione differenza di due quadrati è stata scomposta nella solita somma per differenza quindi vedete come funziona facilmente questo sistema proviamo qualcosa di più difficile proviamo a fare una derivata per chi conosce le derivate se avete fatto un po di superiori la derivata di x alla settima per esempio vedete 7x alla sesta però si possono fare adesso sto tentando di cancellare si possono fare anche integrazioni l'integrale di 7 per x alla sesta vediamo se capisce così se no lo modifichiamo come abbiamo visto prima derivando x alla settima abbiamo ottenuto 7x alla sesta l'integrale di 7x alla sesta e x alla settima come vedete non compare la costante arbitraria vediamo se ce la riusciamo a mettere sì ecco quindi è un sistema che prende delle espressioni matematiche scritte a mano col pennino ed ha il risultato come appunto ce ne possono essere di questo genere che fanno addirittura la foto come dicevamo prima facciamo ancora due calcoletti poi vi mostro come ho realizzato quest'app e vi spiego perché ce l'ho solo io facciamo ancora un calcoletto facile facile per esempio facciamo la sommatoria per k che va da 1 a 4 mettiamo dei numeri così di 1 fratto k alla seconda allora vedete che abbiamo proprio scritto il simbolo di sommatoria per chi appunto ha fatto un po' di superiori sa cosa vuol dire questo simbolo sto sommando tutti gli 1 fratto k alla seconda con questo k che assume di volta in volta il valore 1 2 3 fino a 4 sommando tutti questi contributi e se facessimo il calcolo a mano verrebbe proprio 205 fratto 144 per far vedere che non stiamo imbrogliando proviamo a fare la sommatoria per k che va da 1 a 1 e giustamente viene 1 perché 1 fratto 1 al quadrato fa 1 ovviamente il sistema può essere ampliato facendo la sommatoria per k che va da 1 a 100 di tutti questi 1 fratto k al quadrato quindi ci sarà 1 ci sarà un quarto poi ci sarà un nono e così via li sommiamo tutti e vediamo fino a 100 quindi 1 fratto 100 al quadrato ed ecco che non è venuto il risultato non so perché probabilmente avevo esagerato non riuscivo a fare la somma di tutti i numeri eppure fa questi calcoli in modo proviamo ancora dei numeri più grandi vedete la matematica il calcolo è esatto ci dà esattamente la frazione ed è molto grande però evidentemente con 100 c'era qualche problema di dimensioni proviamo arrivare a 80 80 vedete la frazione quanto è grande perché con 100 non lo fai niente col 100 evidentemente il numero è così grande che non si riesce a stampare a schermo vediamo se a 90 ci arriva a 90 ci arriva vedete il numero è lunghissimo è una frazione lunghissima però il problema è ma se sommassimo infiniti di questi numeri che risultato si otterrebbe che frazioni sono queste e allora per vedere la sommatoria per k che va da 1 a infinito di 1 fratto k al quadrato quindi ripetiamo 1 più un quarto più un nono la somma di tutti i reciproci dei quadrati ecco vedete che il risultato sorprendentemente è pi greco alla seconda fratto 6 e se non ci credete mettetevi lì e fate la somma di 1 più un quarto più un nono più un sedicesimo più un venticinquesimo fino all'infinito e scoprirete che risultato è questo ci sono tanti video su internet che spiegano come viene questa cosa ma non è il caso in questo in questo video di parlarne quindi questa è app perché ce l'ho solo io allora innanzitutto vediamo com'è fatta come l'ho programmata come l'ho realizzata ovviamente realizzare un computer algebra system completo è un po' problematico e allora mi sono appoggiato ma ce ne sono tanti gratuiti a questo che si chiama simgia simgia è semplicemente un eccolo qui un computer algebra system cioè si possono mettere si possono fornire al programma delle espressioni e queste espressioni vengono elaborate per dare il risultato ecco ingrandito un po' così si vede meglio e qui possiamo scrivere come abbiamo fatto prima 2 più 3 e ovviamente il risultato che otteniamo è 5 poi possiamo fare tutti gli altri calcoli che abbiamo visto prima addirittura vedete posso fare il grafico ma anche tante altre cose adesso sto qui a spiegare simgia mettendo per esempio tra meno 2 e 2 possiamo fare il plot eccola qui adesso è troppo ingrandito il plot di una funzione vabbè qui c'è una parabola semplicissima quindi simgia un computer algebra system come ce ne sono tanti anche gratuiti geogebra reduce e tanti altri che consentono di ottenere dei risultati dei grafici anche facendo calcoli di tipo simbolico come avete visto prima questo però è il programma appunto che fa i calcoli il computer algebra system invece come ho realizzato la parte di riconoscimento della scrittura perché in effetti questa è una cosa abbastanza complicata da programmare e per fortuna ci sono delle librerie come myscript che potete trovare appunto andando su internet a questo indirizzo che si occupano proprio di prendere un testo scritto a mano e di tradurlo in un formato che sia comprensibile elaborabile da altre parti del programma myscript è quello che uso io e purtroppo non è gratuito è per questo che l'app che avete visto non ce l'ho solo io perché me la sono programmata me la utilizzo e c'è un certo numero di licenze che si possono ottenere gratuitamente sono 400 mi pare licenze se non hanno cambiato qualcosa ultimamente gratuite perciò praticamente io mi sono creato la mia app me la utilizzo e ho delle licenze gratis e potrei creare altre applicazioni di questo tipo però se superassi le 400 applicazioni cosa impossibile ovviamente dovrei cominciare a pagare qualcosa a questi di myscript potete farlo anche voi ovviamente vi andate a iscrivere come sviluppatore vi scaricate l'SDK vi scrivete le vostre app e le potete poi eventualmente anche commercializzare questa sicuramente che avete visto adesso non è un'app che avrà molti estimatori serve a me per farmi i miei calcoli scrivere velocemente però non so a quanti possa interessare scrivere a mano quanti hanno un tablet che abbia il pennino sono pochi quindi non vado a pubblicarlo perché tanto non lo comprerebbe nessuno e quindi mi sciuperei tutte le mie belle licenze gratuite di cui vi stavo parlando vediamo solo come funziona myscript dopo che ho rivelato perché questa app ce l'ho solo io è l'app più rara del mondo è un sistema che riconosce la scrittura si possono scrivere come sui tablet che hanno il pennino c'è il riconoscimento della scrittura la cosa bella però che non c'è solo su myscript il riconoscimento dello scritto come appunto di solito c'è sui tablet col pennino ma si possono anche creare come vedete in questa simulazione dei diagrammi disegnati a mano che poi vengono convertiti oppure si possono come avete visto prima scrivere delle espressioni matematiche che possono quindi poi essere tradotte in un formato che il nostro computer algebra system riesce poi a elaborare per darci il risultato ecco per quanto riguarda la matematica non è di serie sui tablet col pennino l'applicazione che interpreti la matematica e quindi ho dovuto usare myscript per realizzarla e qui fanno vedere alcune caratteristiche si può ovviamente cancellare si possono fare sostituzioni di base c'è anche la possibilità di fare dei calcoli semplici però sono solo calcoli aritmetici di tipo non simbolico non ci sono le derivate non ci sono le integrali però magari piano piano li inseriranno e qua potete vedere tutti i simboli che il sistema riesce a riconoscere se scrivete un'espressione matematica ci sono tutte le lettere dell'alfabeto quelle minuscole maiuscole vengono riconosciute benissimo l'avete visto anche prima quando ho scritto expand o factor ovviamente riconosce le cifre ma anche tutta una serie di simboli matematici che sui libri di matematica si usano tantissimo e tutti questi vengono compresi senza fare errori l'importante è scrivere in modo abbastanza comprensibile ma neanche più di tanto riesce il sistema essere molto versatile poi ci sono le lettere greche riconosce vari tipi di funzioni e anche vari tipi di unità di misura e poi le varie regole per costruire queste espressioni che riconosce il sistema di MyScript possono anche consentire dei sistemi lineari adesso magari ci proviamo non mi ricordo se sull'app l'avevo già implementato qui trovate la sommatoria trovate le matrici allora proviamo andare tornare sul sul nostro tablet e vediamo se riconosce una matrice questo non l'ho provato prima quindi non mi ricordo se funziona bene però ci proviamo vediamo se riconosce la matrice no non ha riconosciuto questa matrice vediamo se la riconosce così ecco dovevo usare le parentesi tonde non mi ricordavo e questa è una matrice ovviamente potete calcolarne per esempio il determinante oppure farne l'inversa vediamo se lo capisce no così non l'ha capito perché c'era uno zero in realtà è giusto ma vediamo se riesco a ripristinare tutto cancelliamo cancelliamo 2 più 3 funziona perfetto 5 c'era uno zero nella matrice quindi quando ho calcolato l'inversa si è arrabbiato il computer algebra system però se mettiamo una matrice normalissima 1 2 3 4 e ne calcoliamo l'inversa vedete che l'ha calcolata e chiaramente il sistema è stato creato apposta per calcolare anche le matrici dicevamo di provare anche un'altra cosa ma non mi ricordo più e finisco il video ah si di provare a inserire un sistema questo ripristiniamo sì allora vediamo se i sistemi li capisce metto una parentesi poi scrivo x più y uguale 2 poi x meno y e qui già ho sbagliato ma si può cancellare x meno y uguale 3 non so quanto faccio a questo sistema però vedete che ha funzionato cioè il computer algebra system simgia le soluzioni di un sistema di equazioni le propone in questo modo e ci sta dicendo che quel sistema di equazioni ha come soluzione x uguale 5 e mezzo y uguale meno un mezzo vedete che ha funzionato bene questa è l'app più rara del mondo ce l'ho solo io magari se a qualcuno interessa vediamo se si può fare qualcosa per farvela avere però sarà difficile perché come avete visto è un'app che ho realizzato addirittura nel 2020 e e non so se riesco a ricompilarla me la sto tenendo sul tablet perché non so se riesco a di nuovo compilarla perché android ha il problema proprio di continuare a essere aggiornato e non sempre gli aggiornamenti su android studio si riesce poi i vecchi programmi a ricompilarli comunque ci proverò eventualmente a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione se vi piacciono questi video ovviamente iscrivetevi se non siete iscritti commentate qui sotto e ci si rivede in uno dei prossimi video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti